Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia per PandoraTV.it. All'indomani della vittoria di Trump alle elezioni presidenziali americane, Gianluigi Paragone condusse una puntata di La Gabbia Open dove fra gli altri si fronteggiavano Giulietto Chiesa e Marcello Foa, due giornalisti molto diversi fra loro, con origini e storie radicalmente differenti, due tradizioni politiche antitetiche alle spalle, insomma due persone che secondo la logica in cui siamo cresciuti avrebbero dovuto dissentire su praticamente tutto. Invece analizzando non solo l'esito delle elezioni americane ma l'intero panorama politico internazionale contemporaneo, la visione di Chiesa e Foa concordava in modo sorprendente. In modo sorprendente secondo il modo vecchio di intendere la politica, ma in modo per nulla sorprendente secondo il paradigma della politica 2.0. La politica a cui siamo abituati e che potremmo chiamare la politica 1.0 ormai è finita. Era la politica di ideologie che non ci sono più, in una società fatta di persone con identità di gruppo che stanno scomparendo, collocate in un mondo senza internet che non c'è più, nel quale la realtà condivisa generata dai media era incontestabile, cosa che grazie ad internet oggi non è più. Naturalmente la politica 1.0 ha la sua buona dose di inerzia e nelle convulsioni della sua agonia finale causerà, ahimè, sconquassi anche importanti. Naturalmente non sappiamo esattamente come si evolverà la politica 2.0, non abbiamo la sfera di cristallo, possiamo però fare delle ipotesi. Quasi certamente la politica 2.0 avrà almeno due facce. Nella prima, diciamo, la sua manifestazione utopica, la sua forza di trazione verrà dalla forza aggregante della rete, di internet, dell'interconnessione degli individui. Soprattutto la sua forza non potrà prescindere dalla realtà, perlomeno non troppo, non certo nella misura incredibile in cui dalla realtà oggi prescinde la politica 1.0. Nella sua manifestazione distopica invece, la politica 2.0 sarà invece un impietoso meccanismo quasi deterministico, in grado di utilizzare big data per formulare immagini psicometriche di ciascuno di noi, che permetteranno di colpirci con un marketing politico personalizzato, in grado di sedurci a colpo sicuro. L'ultima frontiera del populismo, in pratica. Le promesse, che rigorosamente non verranno mantenute, personalizzate cittadino per cittadino. Di questo aspetto della politica 2.0 per oggi non parlerò. Non possiamo mettere troppa carne al fuoco, forse un'altra volta. Ho illustrato in un paio di miei precedenti interventi la deriva verso l'irreale intrapresa dal mainstream politico-giornalistico occidentale. Negli ultimi anni almeno. È il canto del cigno della politica 1.0. False rappresentazioni del mondo e di quello che succede che hanno causato un vero e proprio scisma nella percezione del mondo nelle popolazioni occidentali. Bisogna rendersi conto che l'entità del cambiamento in atto rivaleggia per portata con quella del crollo del sistema sovietico. È un'intera visione del mondo quella che si sta rapidamente disfacendo in Occidente. Ed il pubblico occidentale ha già iniziato a dividersi per lo meno in due grandi categorie. La prima categoria è quella di chi si tiene stretto al paraocchi e sperando di conservare un quieto vivere segue il pifferaio magico del mainstream nella sua disastrosa avventura verso l'irreale. Nel mondo delle bugie dove il vero e il falso vengono sistematicamente ribaltati. Invece poi c'è la seconda categoria di persone. Quelli che di questo paraocchi si sono liberati, insomma di chi si è svegliato, si sta svegliando dal sonno della ragione e finalmente accetta l'onere scomodo di vivere nello scomodo, scomodissimo mondo del reale e di confrontarsi criticamente con miti e mostri che il mainstream fa danzare davanti ai suoi occhi. Mi riferisco a quei mostri illusori creati ad arte per terrorizzarci così che poi noi imploriamo protezione. E la finta minaccia russa? E la finta oppure artefatta minaccia terroristica? Tutti i meccanismi descritti mirabilmente nel documentario della BBC The Power of Nightmares, realizzato da Adam Curtis nel 2004. Forse è il canto del cigno della vecchia BBC dai grandi contenuti. Su alcuni di questi temi il film è retticente, bisogna accennare, però per il resto è molto istruttivo e ne consiglio tutti la visione. Lo trovate in rete. Cosa vuol dire allora che una percentuale così elevata e di incostante crescita dei cittadini in Occidente non solo non si sente più in alcun modo rappresentata dalle forze politiche esistenti, ma si sta ormai emancipando dal mondo illusorio di bugie costruite ad arte dai media? Vuol dire molte cose, ma quella che ci interessa qui è che si è aperto un nuovo, immenso spazio politico, più o meno disabitato. Nessuno ancora bene rappresenta questa crescente massa di cittadini che ha compreso gli inganni della narrativa mainstream e con essa quindi per sempre è rotto i rapporti. È un vero e proprio movimento, anche se nessuno ancora lo ha bene definito. I guardiani dello status quo esorcizzano questo movimento, apostrofando come complottisti tutti quelli che anche solo di sfuggita ne facciano parte. O anche solo vi si avvicinino. Essere diciamo in odore di complottismo. Ecco il mondo nuovo dove ricompare il concetto di eresia, travestito. Basta sconfinare dal perimetro del pensiero unico mainstream in disfacimento per venire connotati col vocabolo magico della neolingua, l'epitodo di scomunica moderna, complottista. Ed ecco allora per il pensiero unico i complottisti conclamati, i complottisti sfegattati, i complottisti deliranti, ma anche i complottisti moderati e soprattutto le persone normali con solo qualche sporadica tentazione complottista, così ogni tanto. Per esempio voi, avete mai iniziato un discorso con le parole non sono un complottista ma bravi, bravi, sono fiero di voi? Complimenti per l'escusazio non petita. Avete paura, eh? Di essere bollati col marchio dei nuovi pari. Più la realtà illusoria del mainstream si sfalda, più i guardiani dello status quo disperatamente estendono l'epiteto magico di scomunica complottista? A porzioni intere di cittadinanza. Appaiono articoli pseudoscientifici, in realtà farneticanti, su importanti riviste testate dove si cerca di mettere in dubbio la sanità mentale di chiunque smette di credere ai loro miti artefatti e alle loro realtà fittizie. il modello è quello di rinchiudere i dissidenti manicomio, proprio come nell'Unione Sovietica. E se ora non lo si può fare materialmente, lo si fa idealmente, simbolicamente. Ma c'è un problema. In occidenti dissidenti, cioè coloro che non credono più alle danze ipnotiche allestite dai burattinai, ai miti smerciati come fatti veri, agli attentati false flag spacciati per attacchi di un nemico che non esiste, crescono a velocità impressionante. 15 anni fa eravamo quattro gatti. Oggi siamo in milioni. Siamo una percentuale significativa della popolazione. La parola magica di comunica complottista funziona sempre di meno. E allora ecco che l'establishment disperatamente cerca di cognare nuove parole magiche. Faked news. Ecco una delle ultime trovate. Notizie false. Tutto ciò che non è la verità rivelata dai loro media, d'ora in poi sono notizie false. E per definizione. Se una cosa non è detta da loro, non esiste. È falsa. E magari è anche inventata da Putin. A chiunque abbia ancora anche solo due neuroni funzionanti colpirà l'entità del delirio. D'altra parte la storia dell'umanità è costellata di deliri eclatanti. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Però la stessa storia del mondo ci insegna che ogni delirio prima o poi porta a schiantarsi contro l'inesorabile muro duro della realtà. La politica 2.0 quindi non si gioca più nel ristretto teatro delle ideologie a confronto, ma nel più ampio teatro delle realtà in competizione. Lo scontro non è più fra diverse interpretazioni della realtà, ma fra diverse percezioni del reale. Siamo un gradino più in alto. Ma che gradino? Nella politica 2.0 il dissidente non è più chi considera sbagliato il modello politico vigente, ma chi considera irreale la rappresentazione del mondo del mainstream. Il dissidente 2.0 ha le vesti dell'antico eretico. E questo spiega perché il mainstream, anziché provare a controbattere alle istanze che esso presenta, preferisce bollarlo come matto. Vuole escluderlo dal gioco. Il fatto è però che questi cosiddetti matti, chiamateli complottisti, chiamateli dissidente, scegliete pure l'etichetta che preferite, sono sempre di più. Noi siamo sempre di più. Siamo così tanti da costituire ormai uno spazio politico. Siamo quindi un nuovo spazio politico, uno spazio composto da milioni di cittadini, tutti evasi dalla grande menzogna generale. Siamo persone anche molto diverse fra di noi. Fra noi c'è gente che si sente di sinistra, c'è gente che si sente di destra, di centro, oppure appartenenti ad altre tribù politiche ancora. Ma in comune abbiamo la cosa più importante. Ci siamo svegliati dal sonno della ragione e non crediamo più alla grande menzogna in cui sta sprofondando l'Occidente e tutte le piccole, talvolta ignobili, talvolta ridicole menzogne che fanno da condimento alla portata principale. Seppure con idee e convinzioni diverse, ci ritroviamo tutti in una nuova realtà, un nuovo spazio politico, che però non è ancora un soggetto politico, ed è quindi logicamente del tutto privo di rappresentanza, un'anomalia. E allora cosa facciamo in questo nuovo grande spazio, in questa nuova realtà che ci siamo creati? Beh, c'è chi parla, c'è chi scrive, c'è chi si informa e c'è chi informa. Ma soprattutto il comune denominatore ci lamentiamo tutti. La lamentela. Cos'è la lamentela? In questo caso è il nostro comune denominatore. Ma cos'è la lamentela in sé? Nel nostro caso vuol dire sperare da auspicare che qualcuno faccia le politiche che a noi paiono più appropriate e però rammaricarci passivamente del fatto che esse invece non vengano fatte, senza quindi assumere alcuna iniziativa concreta finché i nostri desideri diventino realtà. Come si capirà, non è esattamente il massimo della vita. Ma allora perché invece di lamentarci che non serve a niente e non cambia nulla, non facciamo qualcosa? Oppure se già facciamo qualcosa, non ci rimbocchiamo le maniche e facciamo di più? E non mi riferisco, badate bene, a litigare, che qui sembra il passatempo preferito di tutti. Uno non fa in tempo a liberarsi dalla palude di menzogne mainstream e si ritrova subito invischiato in mille litigi con altri liberati, bisticci su cosa sia vero e che cosa sia falso, su cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato, su cosa sia morale, su cosa sia immorale, e chi più ne ha più ne metta. Favoloso. In pratica una sorta di divide et impera fai da te. Cioè, noi ci dividiamo e loro imperano alla facciaccia nostra. e fanno bene. Ce lo saremo meritati. Siamo intelligentissimi. Se invece focalizzassimo le nostre energie sulle grandi cose che ci uniscono, questa nuova visione del reale, anziché sulle piccole cose che ci dividono, magari riusciremo anche a combinare qualcosa. Insomma, venendo al nocciolo, o prendiamo qualche iniziativa, oppure la smettiamo di lamentarci. Perché è poco dignitoso. Che ci piaccia o no, noi siamo un movimento. Un movimento verso il reale. Contro il delirio del mainstream e verso il reale. Perché ci siamo mossi e continuiamo a muoverci in direzione del reale. E siamo già in milioni. e il nostro numero continua a crescere. Certo, fra di noi c'è anche gente un po' fuori di testa, bisogna ammetterlo. Ma qualche scompenso psicologico è fisiologico quando ti devi confrontare col fatto che di fatto tutti i tuoi punti di riferimento precedenti e il tuo telegiornale preferito, i giornali che hai sfogliato per anni, i tuoi personaggi di riferimento. Tutti ti hanno sempre preso in giro. Ti hanno sempre mentito. E adesso che te ne sei accorto, tutti questi punti di riferimento non valgono più. E' un trauma che oggettivamente crea incertezza e confusione. E qualche volta qualcuno anche vanneggia un po'. Da parte nostra ci vuole un po' di elasticità e comprensione. Possiamo anche continuare a fare finta che questo movimento che c'è ed è innegabile non sia un movimento politico. Non so che cosa sia, ma non sia un movimento politico. Ma per quanto tempo ancora possiamo far finta? Meglio piuttosto, questa è la mia opinione, darsi una svegliata e comprendere che la politica 2.0 è veramente diversa da quella a cui siamo sempre abituati. E molte delle sue proprietà ci sono ignote. Sono proprietà emergenti, come dice il bardo, lo scopriremo solo vivendo. E se non daremo forma a quelle parti della politica 2.0 di cui stiamo parlando, allora le altre parti, quelle della politica 2.0 distopiche, ci travolgeranno e non avremo più alcun scampo. Quelle di cui non ho parlato. Quelle tremende che usano big data per entrarvi nel cervello e ottenere il vostro consenso. Diamo allora ancora un'occhiata al vecchio mondo in disfacimento della politica 1.0. Vediamo la finta sinistra, la finta destra, il finto centro. Avrete notato che sono tutti uniti e compatti verso gli eretici, verso noi che la pensiamo un po' diversa. per il semplice fatto che non ci beviamo più le loro storielle, le loro rappresentazioni, i loro finti bisticci. Tra di loro fanno finta di litigare, ma contro di noi sono uniti. Riflettete su questo punto. Noi invece, tra di noi, siamo tutti divisi. Loro sono uniti. Noi siamo divisi in mille conventicole, tutte che bisticciano une con le altre. Ed è qui che ci rendiamo conto che il vero scontro politico oggi non ha più nulla a che vedere con le categorie della destra, della sinistra e degli antichi schieramenti. Oggi il confronto è fra veri e propri mondi diversi, non più fra diverse interpretazioni della realtà, bensì fra vere e proprie diverse percezioni della realtà. Le categorie classiche della politica, per esempio l'approccio socialista contro l'approccio liberista e viceversa, sono oggi surclassate dalle emergenze di categorie superiore. Il vero contro il falso, il reale contro l'irreale e viceversa, naturalmente. Non è più una battaglia di opinioni, è una battaglia di percezioni. Chiariamo quindi subito bene a scanso di equivoci. Le differenze che separano le persone che si sentono di sinistra da quelle che si sentono di destra esistono davvero ed esisteranno sempre. E sono differenze di mentalità, di attitudine, di attitudine alla vita e alla società, differenze culturali, intellettuali, distrazione sociale, di tradizione familiare, di convenienza. In altre parole, differenze antropologiche che riflettono un dualismo e queste differenze le troviamo in ogni luogo del mondo, in tutti i popoli non se ne andranno via. Fan parte del mondo, fan parte della specie umana. Si tratta però di differenze di interpretazione a partire da una stessa realtà percepita, la stessa realtà. ma la vera emergente divisione del mondo occidentale oggi è fra chi vive nel mondo creato dai media, dai media mainstream, e chi da esso invece si è emancipato e non ci vive più. Ed è per questo che oggi possiamo avere, come ho menzionato all'inizio per fare un esempio, due giornalisti così diversi fra loro, come Giulietto Chiesa e Marcello Foa, dalla stessa parte della barricata. Loro hanno capito. Ed in America possiamo avere, per esempio, un Paul Craig Roberts, ex membro del governo di Reagan, non so se avete presente, che però adesso è sullo stesso fronte di un Michel Shoshudovsky, professore universitario canadese di tutt'altra estrazione e direttore del sito di Global Research. Qui lo vedete adesso insieme a Fidel Castro, tanto per rendere l'idea. Nella politica 2.0 la logica degli schieramenti è cambiata, ha fatto un salto di qualità e prima lo capiremo tutti, meglio sarà. evito adesso di includere l'argomento 5 stelle in questo ragionamento perché essi costituiscono un'altra realtà più complessa da movimento che sono stati e adesso stanno mutando in partito, si preparano a governare, ancora non sappiamo come governeranno, ci sono un sacco di incognite, un sacco di domande, non sappiamo abbastanza. Il movimento verso il reale che osservo e di cui ora sto parlando, in certe sue aree si sovrappone al popolo dei 5 stelle, cioè almeno con parti della sua base, però certamente non in altre, ci sono zone distinte di questo popolo. Il fenomeno 5 stelle si è certamente alimentato moltissimo dall'esistenza di questo movimento che non è nato oggi, così come in altri paesi il partito dei pirati e altre formazioni diciamo antisistema, tutte si alimentano da questo movimento. Probabilmente l'iniziativa di dare un contorno e un'identità unitaria a questo grande movimento che già esiste dovrebbe partire da tutti quelli che veicolano informazioni in modo indipendente, visto che questo grande scisma in seno alla società occidentale è tutto sommato generato da loro, dalla libera circolazione di informazione non allineata. Chiunque lavorasse a questo progetto dovrebbe comprendere che affinché il movimento possa riconoscersi nella definizione che di esso si dovesse dare, è necessario che si proceda con la massima lucidità, il che significa definendo il movimento esclusivamente per il minimo comune denominatore che unisce tutti quelli che ne fanno parte. In altre parole, per il fatto stesso ed esclusivo di essere evasi dal mondo illusorio dipinto dal mainstream con le sue menzogne. Sembra poco, ma in realtà moltissimo. Parliamo di due mondi completamente diversi. Se invece ognuno come temo vorrà proiettare sul movimento tutte le proprie stanze personali, di rettaggi ideologico, morale, di costume, di quant'altro, il progetto è destinato a fallimento immediato. Il divide et impera fai da te non è una buona idea. Politicamente si chiama suicidio. Il movimento quello che esiste, che già c'è, ma che non si è ancora visto allo specchio, non si è battezzato, non si è ancora visto come una possibile unità, è un movimento transpartitico, transigeologico, transnazionale. Di tutto ciò si dovrà tenere conto, assolutamente. Non posso predire quale potrebbe essere una destinazione, una finalità chiara di questo movimento, anche perché sarà il movimento stesso a stabilirle ammesso e non concesso che si capaciti del fatto di essere un singolo movimento. Che il movimento in altre parole prenda coscienza di sé. Possiamo però cercare di innescare questa presa di coscienza e questa aggregazione, di favorirle, eventualmente anche di accompagnarla per un po', fino a quando essa non saprà stare sulle sue sole gambe. Fondamentale è prendere atto che il movimento esiste. Utile e importante è dargli una mano a definirsi per ciò che esso è e nulla di più lo ripeto. Anche la definizione quindi sarà un work in progress. Ne posso predire quale nome vorrà assumere questo movimento. Improvvisamente, così mi piace chiamarlo fermare il delirio, anche se questa espressione fa il verso a un'effimera comparsata politica italiana di qualche anno fa. Ciò che importa comprendere è che si tratta di un movimento verso il reale. Ritengo sia tempo quindi di fare qualcosa di concreto per fermare il delirio mainstream, prima che questo ci conduca a tragedia certa. E scusatemi se non ho parlato a voi come dei bambini della terza media. Mi dicono che ormai sia l'unico modo efficace per fare politica. Come d'altra parte aveva già a suo tempo sentenziato Gustave Le Bon nel suo Psicologia delle Folle. Scusatemi, perdonatemi, ma nessuno è perfetto. Iniziamo allora adesso a tratteggiare i contorni dello spazio politico che si è creato attorno a noi che facciamo circolare informazione. E proviamo a contarci. Forse siamo ancora di più di quanti crediamo. Si cita spesso la frase di Orwell che in tempi di inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario. Magari però se questa frase proviamo a pronunciarla tutti insieme nella stessa direzione anziché gli uni contro gli altri l'efficienza rivoluzionaria magari ne guadagna. Roberto Quaglia per Pandora per Pandora tv punto it di Grazie per la visione!